La nostra Cristina viene salutata dal nostro pubblico caloroso, pubblico che vorrei poi coinvolgere in una storia musicale. Magalli per favore tu diciamo che la pianti, andamosele, andamosele. Oggi voglio accontentare Manuel Di Bari che mi scrive cioccolatoso, com'è? Cioccolatoso Marcello. Da poco ho iniziato a prendere lezioni di chitarra e l'artista che strimpello volentieri è Giovanotti. Mi dedico un suo brano, Cano Manuel, con il nostro amico Aldo Peris abbiamo pensato di dedicarti un trittico, vero maestro, tre canzoni, un medley dedicato a Giovanotti. Partiamo con questa, ragazzi, anche voi, eh? Vai, dammi. Vediamo se ce la fate. Ale, oh, voi. Ale, oh. Che bello è quando lo stadio è pieno e la musica, la musica riempie il cielo. È una limpidine, è una rivoluzione, è una limpidine, è una rivoluzione. Vai! Ciao, mamma, guarda come mi diverto, ciao, mamma, guarda come mi diverto, ciao, mamma, guarda come mi diverto, vai col coro. Ale, oh, voi. Ale, oh, voi. Ale, oh, voi. Ale, oh, voi. Mani! Vai, vai! Questo è il romerico del mondo, questo è il romerico del mondo, questo è il romerico del mondo. Occhi sperando come il diamante, pace metice di razze nuove, come il millennio che sta arrivando, questo è il romerico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è il romerico del mondo, questo è il romerico del mondo, questo è il romerico del mondo. Questo è il romerico del mondo. Io penso positivo perché sono vive e che sono vivo. Io penso positivo perché sono vive e che sono vivo. E' il romerico del mondo, potrà fermarmi della zona. E' il romerico del mondo, potrà fermarmi, 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 questo è il romerico del mondo. Questo è il romerico del mondo, potrà fermarmi, fermarmi, fermarmi. Grazie, grazie tante, volevo ringraziare la nostra orchestra e i nostri ballerini, Marilena, Eric, Tiziana e Patrick, continuate a mandare le vostre dediche, io le esaudirò tutte scrivendo a Via Teulata 66 00 195 Roma, grazie.